Ciao a tutti e benvenuti in questa seconda puntata di Panno Barbaro TV dove sto spiegando come ho fatto la collezione di t-shirt che sta per uscire verso marzo-aprile Prima di continuare però voglio rassicurare centinaia di migliaia di fans che mi hanno scritto preoccupati per le mie occhiaie non sono dovute da carenza di sonno ma sono purtroppo le occhiaie che ho io Vabbè, andiamo avanti Bene, avanti con la presentazione che sarà tutta con scritte nere su sfondo blu Scherzo dai, l'ho fatta un po' meglio Quello che mi ha fatto iniziare questa attività è la mia passione per le t-shirt un capo d'avogliamento che praticamente si può indossare in qualsiasi occasione e anche da qualsiasi tipo di persona ovviamente Marlon Brando nel film Un Trump chiamato Desiderio interpreta il personaggio bello e maledetto mentre John Heather in Napoleon Dynamite interpreta un personaggio super nerd, impacciatissimo Le t-shirt come ogni capo d'abbigliamento hanno tre fasi fondamentali La scelta del materiale, la scelta del design e la lavorazione per ottenere poi il prodotto finito Come materiale ho scelto quello più comune per le t-shirt, il 100% cotone jersey che prende il suo nome dall'isola dove per la prima volta è stata fatta questo tipo di lavorazione Scegliere il design però è stato un po' più difficile Queste immagini le ho prese a caso da internet però potete benissimo vedere che le scelte sono tantissime C'è la t-shirt con scolla V, la t-shirt senza maniche, la t-shirt con scolla U Perciò tantissime veramente possibilità di scelta Mentre facevo il video però ragazzi mi sono accorto che questi tre modelli assomigliano a tre attori famosi di Hollywood Perciò adesso si apre quello che c'è in ogni tv che si rispetti cioè il quiz Affrettatevi a rispondere mi raccomando perché il primo riceverà a sua scelta una t-shirt in regalo della collezione 2014 Panno Barbaro Dunque un gran bel premio Bene andiamo avanti Per quanto riguarda il design mi sono affidato quello che i fornitori avevano di standard in casa loro Questo perché volevo evitare i ritardi nell'uscita della collezione Questo non toglie il fatto che prossimamente ci potrà essere qualcosa di più particolare Anzi se avete consigli o suggerimenti mandatemi lì che sono ben contento di leggerli In questa immagine poi potete vedere la t-shirt tagliata è solo la parte davanti Il taglio è il primo step della lavorazione Dopo aver tagliato il tessuto io devo portare il pezzo davanti dal ricamatore Ma di questo parleremo nella prossima puntata E poi ci sarà la confezione finale della t-shirt che è l'unione dei vari pezzi Per formare il prodotto finito Ragazzi spero che questa puntata vi sia piaciuta Rispondete al quiz Scrivete via email, via facebook, via twitter, quello che volete E ci risentiamo alla prossima